Salve a tutti, sono Leo e questo è il live di tutti quanta tutti su Village dove userò Spinovanda e c'è anche un altro amico con me però, non lo potete sentire perché ha il microfono no no, non ti preoccupare, aspetta che metto la telecamera bene che cazzo allora ok, si vede pure bene si si, no tanto facciamo il live quindi più o meno facciamo qualche cazzara così, capi? come viene viene cazzo cazzo, morto allora si, allora parliamo di qualche problema del gioco va io sono abituato a fare quickscope con mira stabile però mira stabile si sblocca al trentesimo livello quindi ogni volta io devo stare arrivato al trentesimo livello per cominciare a fare quickscope quindi se io devo fare una partita a schermo condiviso con un amico a fare a quickscope io li posso fare però non sono bravo quindi farò schifo questa cosa non mi sta bene quindi vaffanculo all'infinity world ok ma sta un cazzo di ripper se mi uccidi stupro mannaggia da merda io sono un gatto, corro alla lucina rossa dove sta la lucina rossa? la lucina rossa dove sei? ecco la lucina rossa vai vai sono morto allora tutto bastardo in un elicottero vabbè come devi fare una partita decente va madonna è già finita che cazzo vabbè sto video sarà molto corto lo dico prima ah mi sta ammolestando l'elicottero non sta a fare niente vabbè tanto lo sapete io non so bravo a giocare a motor warfare Gasper che nome ha? cioè madonna mia questo c'è un'invenzione incredibile l'altro uomo mi sciva una doppia però non ho fatto niente quindi queste cose non mi piace ok di cose importanti in questo video mi ha detto una cosa sola non sto a parlare per niente tu c'hai qualcosa da di? così se lo riferisco qualsiasi cosa ok l'amico mio ci riferisce vaffanculo Gasper ma che sai qua come si chiama eh c'hai Gasper vabbè ci sono stati dei nomi peggiori io ho trovato uno che c'era il tag clan che ho scritto gay allora cerchiamo di uccidere qualcuno allo 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 muori oh ok pesa la dritta Sam ma che mira di merda che c'ho che ho detto? non è vero molto meglio Battlefield mi danno duro a spiegare un caricatore per uccidere una persona tu dici online oppure no ma vabbè sì no all'anno ce ne stanno ce ne stanno di più di più di Battlefield 2 ce ne stanno cioè di Battlefield Bad Combo 2 ce l'hanno messa un'altra che tipo cioè ce l'hanno messa un'altra modalità che è corsa affazione cioè no mi ricordo è tipo del match affazione una cosa del genere boh ma quando sta a durare sto video boh sto video sta a durare 4 minuti e 30 deve finire sta partita se non faccio il tempo ah che sta la videocamera a me c'è una migliora cortissima quindi mi devo muover muovo avanzato allora vi saluto in anticipo in caso la mia telecamera finisce la memoria perché telecamera videocamera vabbè è quella stessa cosa dai cazzo sta a fare gasper ma che nome ha gasper se il mio amico qua sta a sfottere gasper sta a mandare a fangolo l'ultimo dia del mondo in inglese mannaggia sto smitragliamento aereo oh che smitragliati quel cosetto da appena sotto che c'hai ok è finita non posso fare neanche l'ultima decisione io ho registrato una partita di merda oh vaffanculo che ungo tu sia ecco sì mi hanno rimolestato quello si va a chiapare la cassa trappola oh ma sta partita è finita finalmente ti ho fatto l'ultima uccisione ricordiamoci l'ultima uccisione dai no te lo metteva in testa era proprio brutta nel cuore te l'ha ficcato allora diciamo che per questo è tutto ciao a tutti ragazzi da Leo e vi saluto anche al mio amico ciao ciao ciao